pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati nel vangelo di questa domenica abbiamo una manifestazione di gesù risorto alla comunità che ci offre tra le altre almeno tre chiavi preziose per cogliere i segni della sua presenza nella nostra vita è come andargli dietro primo l'esperienza della gioia come vi dicevo siamo nella domenica di pasqua i discepoli di emmaus sono appena ritornati nel cenacolo e annunciano alla comunità di aver appena visto il signore risorto e di averlo riconosciuto nello spezzare il pane e gesù proprio lì si manifesta nuovamente questo ci ricorda dov'è che noi innanzitutto incontriamo il signore risorto la domenica con la comunità riunita che celebra insieme l'eucaristia quando la comunità lo celebra lo annuncia lo condivide lui viene pace a voi dice gesù ai suoi discepoli si fa riconoscere mostrando le mani il fianco dunque le sue piaghe ormai gloriose e discepoli gioirono al vedere il signore mi cari l'esperienza di dio e del vivere in comunione con lui tra i frutti bellissimi che arreca la nostra vita vi è quello della gioia dio è la fonte della gioia la gioia cristiana non è l'euforia del momento né tantomeno l'allegria non è neanche soltanto la felicità che già qualcosa di profondo legata alla scelta del bene del voler bene la gioia cristiana ha a che fare con la grazia a origine dunque in dio e del frutto del vivere in comunione con dio dell'essere nella sua volontà e la tua volontà è la mia gioia dice un salmo ecco perché i santi erano uomini e donne gioiosi la gioia potremmo dire che è come un corso d'acqua sotterraneo al quale si attinge soltanto se si hanno radici profonde soltanto se abbiamo un cuore radicato in cristo potremmo dire che se siamo persone che pregano e amano il caldo della prova e l'arsura della sofferenza non ci abbatteranno ma continueremo a portare frutto perché perché siamo radicati in lui ecco perché sanse era fino di sarov a quanti lo incontravano annunciava con forza gioia mia cristo è risorto secondo punto miei cari davanti a gesù risorto i discepoli sperimentano lo stupore ma anche il dubbio l'evangelista ci dice che per lo stupore non riuscivano a credere dubitavano il termine greco ha a che fare con un parlare a vuoto l'uno sull'altro potremmo dire così o non riuscire a capacitarsi uno potrebbe dire ma come avevano gesù davanti e dubitavano sì mi cari perché la risurrezione nessuno poteva immaginarsela i dubbi dei discepoli ci dicono la verità di questo evento che non era inventabile né umanamente spiegabile i discepoli per lo stupore non riuscivano a credere come a dire troppo bello per essere vero possibile questo ci dice qualcosa di importante anche per la nostra vita spirituale perché lo stupore talvolta frammisto anche al dubbio fa parte dell'esperienza di dio da un lato gli interventi di dio nella nostra vita ci stupiscono e non dobbiamo perdere la capacità di stupirci perché tutto è grazia sentirsi amati accogliere vedere come la parola di dio man mano ci cambia questo stupisce ti stupisce vedere i segni di benevolenza che dio dissemina nella nostra esistenza quelle coincidenze o meglio quelle dio incidenze che talvolta ti accadono e che ti fanno comprendere come davvero la provvidenza guidi la tua vita da stupore al cuore sperimentare la sua provvidenza magari se in un momento difficile e arriva un aiuto inatteso o si apre una via dove pensavi non ci sia dice un canto da sempre stupore al cuore rendersi conto di come dio parli alla nostra vita anzitutto con la sua parola ma poi nel modo in cui ciascuno può comprendere dio è il dio dell'imprevedibile e ogni volta che passa stupisce ma al contempo vi può essere il dubbio è possibile ma è successo proprio a me ho capito bene o me lo sono inventato questo perché miei cari perché la fede non è una ideologia ma è una relazione con il dio vivo e vero che reale concreto ma spirituale non significa che aria fritta ma che rientra nella dimensione dello spirito è qualcosa che tu percepisci e sperimenti ma che non ti puoi mettere in tasca perché perché dio ti lascia sempre libero e ti chiama ad aderire ad avere fiducia qui miei cari non siamo nell'ambito del dubbio in metodico di cartesio non stiamo nemmeno parlando di quel dubbio frutto della scarsa formazione per il quale basterebbe approfondire un po di più le cose per uscirne ma questo ci ricorda che nella fede c'è sempre lo spazio della libertà significa che la mia intelligenza arriva fino al massimo ma poi c'è sempre un tuffo da fare quell'atto di fiducia in ciò che dio ti sta chiedendo in ciò che tu hai capito essere il meglio per te che lui ti sta indicando qualcuno usava un'immagine bella immaginate delle persone che nuotano felici in piscina l'acqua è tiepida si sta bene tutto bello giornata di sole e tu sei lì sul trampolino tutti ti invitano è bellissimo vieni tuffati ma tu devi tuffarti e quel tuffo spetta te anche il discernimento vocazionale o il discernimento per le scelte più importanti è qualcosa che si costruisce nel tempo frutto della preghiera della relazione con il signore aiutati nell'accompagnamento spirituale si può arrivare ad un grado di certezza interiore molto elevato ma è sempre una certezza nella fede non è una certezza matematica a noi piacerebbe avere tutto chiaro una fede fatta di idee chiare distinte tutto sicuro da qui ai prossimi 50 anni ma non è così seguire gesù e seguire qualcuno che ci chiama sempre a camminare a metterci in gioco e la strada spesso si fa camminando si chiarifica un passo dopo l'altro un po come per abramo il signore lo chiamò ad uscire dalla sua terra ma il dove e il come arrivare a destinazione soltanto camminando man mano lo comprenderà possiamo allora renderci conto miei cari di come il dubbio è qualcosa di negativo soltanto nel caso in cui diventa una scusa per non approfondire un dito dietro al quale nascondersi per non camminare al positivo invece il dubbio diventa uno slancio e uno strumento per fortificare la nostra fede come affermato papa francesco l'incertezza che interessa la fede ci spingere a conoscere più a fondo il signore e il progetto che ha delineato per noi porsi delle domande sulla fede sul nostro cammino è un bene solo così siamo spinti ad approfondire noi stessi e il percorso da intraprendere ma è molto interessante miei cari com'è che i discepoli superano man mano questo loro dubbio gesù sta lì si fa guardare toccare mangia anche del pesce per far loro capire che è vero e concreto e risorto nel suo vero corpo i discepoli dunque lo vedono lo toccano lo ascoltano mangiano con lui non hanno a che fare con una illusione né con un'allucinazione miei cari noi non abbiamo a che fare con un fantasma con delle pie idee ma con il signore risorto dunque i discepoli man mano superano i loro dubbi stando a contatto con gesù è la frequentazione di cristo è la frequentazione di cristo è la progressiva amicizia con lui che ci aiuta a familiarizzare sempre più con il signore ed ecco dunque la vita di preghiera la partecipazione ai sacramenti ai momenti formativi alla carità il lasciarsi accompagnare spiritualmente da qualcuno che ha maggiore esperienza di gesù insomma è lo stare con cristo che man mano ci aiuta ad entrare in una crescente intimità con lui e questo man mano ti permette di superare i tuoi dubbi e le tue paure perché con san paolo sai in chi stai riponendo la tua fiducia e comprendi che è proprio gesù che sta parlando la tua vita infine miei cari abbiamo una terza dimensione molto importante l'evangelista ci dice che gesù aprì loro la mente per comprendere le scritture potremmo dire prima gesù si fa sperimentare c'è lo stare con lui quindi ecco la dimensione intellettuale il signore che apre la mente dei discepoli e fa loro comprendere il senso di tutte le scritture per conoscere cristo abbiamo bisogno di frequentare le scritture di leggere pregare con il vangelo ma al contempo è gesù stesso che apre le nostre menti a comprenderle e tutto questo è frutto dell'azione dello spirito in noi e tutto questo avviene nel tempo nella misura in cui stiamo con gesù questo ci ricorda che quei momenti profondi dove comprendi meglio un versetto ad esempio o un brano della parola che fino a ieri non avevi capito e quella comprensione ti dà gioia è un'opera della grazia quei momenti dove cogli qualcosa di più profondo su dio su te stesso sono l'opera dello spirito santo quei momenti dove legge alla luce della risurrezione qualche avvenimento buio della tua vita è la presenza del risorto che ti aiuta a risorgere che apre la tua mente che ti aiuta a rileggere le cose secondo una prospettiva di vita è la frequentazione di gesù è l'opera dello spirito santo in noi che ci permette di conoscere sempre meglio lui e noi stessi noi siamo costitutivamente tutti un po' ciechi tutti bisognosi di luce quante volte miei cari non soffriamo tanto per i fatti ma per come li leggiamo per come li interpretiamo e così rimaniamo incastrati nei nostri schemi o pensiamo di poter risorgere a suon di ragionamenti o di deduzioni solo gesù sa risorgere ed è lui che ci viene incontro ed è dall'incontro con lui che inizia la nostra risurrezione e l'apertura della nostra mente che fare dunque stare lì dove si celebra gesù dove lo si vive dove in qualche modo lo si tocca insieme agli altri e anche attraverso gli altri attraverso chi lo conosce altro è sapere quattro nozioni altro è sapere che gesù è risorto altro è fare esperienza del risorto altro è stare con una comunità che prega e ama veramente è proprio lì che si ritrova la gioia che si può sperimentare lo stupore che si superano i dubbi e si aprono la mente e il cuore che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti